Allora, grazie Milko, grazie a tutto il comitato Festa San Rocco per averci voluto qui fortemente stessa sera, di nuovo, dopo sette anni. Come ha detto Milko, noi siamo alle 20 domenici, spettacolo da Zasti e arriviamo dalla provincia di Perugia, da un piccolo paesino che si chiama Strevi e portiamo questo spettacolo di giochi d'acqua, luci, musica e colori in tutta Italia e tutta Europa da oltre trent'anni. Tutto quello che vedrete è stato presentato nelle più famose trasmissioni di televisive, quindi a Canale 5, a Italia Sgotta, a Mezzogiorno in Famiglia, su Re 2, l'ultima nostra apparizione in tv è stata ai soliti gnoti, dove ero un uomo l'ignoto che faceva danzare le fontane, quindi per mangiare. Noi siamo pronti per regalarvi dei momenti di magia, voi siete pronti per regalarvi dei momenti Vi ricordate, fatemi capire quanti hanno già visto lo spettacolo una volta precedente? Sì. E quanti invece per la prima volta se lo vedono? Tantissimo. Bene. Buon anno! Oh! Oh! Sì, 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 sì. È un momento speciale, tutti pronti con le macchinette e ci sarà una sorpresa in questo primo brano. Attenzione ragazzi sulla destra, sulla destra della fantana. Grazie. 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 E viva San Rocco! Grazie.